In attesa della decisione di domani, le marche sono pronte a tornare in zona gialla dal lunedì 26. Intanto, nel decreto tanto atteso sulle riaperture, c'è anche la proposta dello stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio. L'ultima scadenza dello stato di emergenza, appunto, scattato il 31 gennaio 2020, era stata fissata dal governo Conte al 30 aprile 2021 e questa proroga è fondamentale per la gestione del personale ospedaliero. Lo stato di emergenza permette di agire anche da un punto di vista legislativo con delle norme molto rapide, molto veloci, che superano certa burocrazia e quindi permettono delle rapidi assunzioni per quanto riguarda, ad esempio, l'aspetto legato al supporto del personale sanitario nelle strutture ospedaliere e anche sul territorio. Con la dichiarazione dello stato di emergenza vengono attribuiti poteri straordinari al governo e alla protezione civile, tra cui la possibilità di operare in deroga alle disposizioni di leggi vigenti. Molti medici, molti personale, soprattutto nei pronto soccorsi, nelle rianimazioni, nelle preemologie, nelle malattie infettive, sono stati assunti proprio con la direzione specifica di supportare le varie unità operative per la presenza della pandemia. Non possiamo dimenticare che il personale sanitario lo strema da tempo ed ha bisogno di riposo. Ora, con questa proroga, si potrà raggiungere pure questo obiettivo. Questa è un'altra grandissima criticità che ci mette molta preoccupazione, perché dopo un anno di Covid il personale è a uno stremo, non soltanto da un punto di vista psicologico, ma anche fisico. Quindi è giusto che il personale possa godere di un periodo di riposo congruo, anche legato all'arrivo della bella stagione.